conversazione con l'ubriaco quando uscì a passettini dal portone fui travolto dal cielo con la luna le stelle e la grande volta e dalla piazza del ring col palazzo del municipio la colonna e la chiesa di maria passai tranquillamente dall'ombra alla luce della luna mi sbotonai il soprabito e mi scaldai poi feci tacere il sussurro della notte alzando le mani e prese a riflettere che significa che vi comportiate come se esistesse realmente volete farmi credere che sono io il reale e mi trovo in modo buffo sul sensato verde è passato tanto tempo da quando tu cielo esistevi realmente e tu piazza del ring non sei mai esistita realmente è vero mi siete ancora superiori ma solo quando vi lascio in pace grazie a dio luna non sei più luna ma forse è per trascuratezza che io continuo a dare il nome di luna a te che sei chiamata luna perché non sei più tanto superba quando ti chiamo lampioncino di carta dimenticato dal colore strano e perché ti tiri quasi indietro quando ti chiamo colonna di maria e non riconosco più il tuo atteggiamento minaccioso colonna di maria quando ti chiamo luna dalla luce gialla mi sembra davvero che non giovi quando si medita su di voi ci perdete in coraggio e salute dio come deve fare bene quando un pensatore impara da un ubriaco perché tanto silenzio credo che non ci sia più vento e le casette che attraversano spesso la piazza come se fossero rotelline sono ben rincalcate zitto zitto non si vede per niente la sottile striscia nera che solitamente le separa dal suolo e mi misi a correre corsi tre volte intorno alla grande piazza senza trovare ostacoli e poiché non mi imbattevo in nessun ubriaco corsi senza moderare la velocità e senza provare fatica verso la via carla la mia ombra correva sul muro spesso più piccolo di me come in un'argine tra la parete e il fondo della strada passando davanti alla caserma dei pompieri senti un rumore che proveniva dal piccolo ring e quando vi entrai scorsi un ubriaco in piedi vicino alla cancellata della fontana aveva le braccia sollevate lungo i fianchi e coi piedi entro zoccoli di legno batteva per terra mi fermai per riprendere fiato poi mi avvicinai a lui mi tolsi il cilindro e mi presentai buonasera garbato nobiluomo ho 23 anni ma non ho ancora un nome lei però proviene sicuramente dalla grande città di parigi con un nome stupendo che si può persino cantare tutto il profumo innaturale della traballante corte di francia la circonda sicuramente lei ha visto con i suoi occhi colorati quelle grandi dame che mentre sono già sull'alta e luminosa terrazza e si girano eronicamente sull'esile via hanno l'estremità dello strascico dipinto che si prolunga per tutto lo scalone e tocca ancora la sabbia del giardino e sui lunghi pali distribuiti un po dovunque non è vero i domestici con una livrea grigia dal taglio sfacciato e candidi calzoni si reggono con le gambe allacciate a questi pali il tronco spesso piegato all'indietro e di fianco mentre cercano di sollevare da terra con delle corde gigantesche lenzuole grigie che devono essere tese in alto per aria perché la grandama desidera una mattina nebbiosa siccome si era messo a ruttare dissi quasi spaventato sì è proprio vero lei il signore viene dalla nostra parigi dalla parigi turbinosa da quella passionale del tempo di grandine quando ruttò di nuovo mormorai imbarazzato lo so mi tocca un grande onore con abili dita abbottonai il mio soprabito poi parlai con ardore e ritrosia lo so che lei non mi stima degno ad una risposta ma dovrei condurre un'esistenza lagrimevole se oggi mi astenessi dal rivolgerle delle domande la prego elegantissimo signore è vero quanto mi hanno detto esistono a parigi delle persone che consistono unicamente di abiti ricchi di ornamenti e case che hanno soltanto portali ed è vero che nei giorni d'estate il cielo è fuggevolmente azzurro abbellito unicamente da bianche nuvolette appiccicate che hanno tutte la forma di cuore e vi è là un museo molto frequentato dove ci sono soltanto alberi sui quali sono appesi dei quadretti con i nomi dei più famosi eroi criminali e innamorati e poi ancora questa notizia questa notizia palesamente falsa non è vero che quelle strade di parigi sono improvvisamente ramificate sono impetuose non è vero non sempre tutto è a posto e come potrebbe essere accade alle volte una disgrazia la gente si assembra accorrono dalle vie laterali con il passo delle grandi città che sfiora appena essenzato tutti sono curiosi ma temono anche di venire delusi respirano in fretta e sporgono le loro testoline ma quando si toccano fra loro si inchinano profondamente e chiedono scusa mi dispiace tanto è stato senza volere se troppa ressa mi scusi la prego sono stato molto maldestro lo ammetto mi chiamo jaron faroche sono droghiere ruite cabotin mi permetta che l'inviti a pranzo domani anche mia moglie ne sarà molto lieta parlano così mentre la strada è stordita e il fiume dei camini cade tra le case è così e sarebbe possibile che ad un tratto in un animato vulvar di un quartiere elegante si fermassero due carrozze dei domestici aprono gli sportelli con sussiego otto nobili canilupi siberiani saltellano giù e si precipitano abbaiando attraverso la carrezzata e dicono che si tratta di giovani damerini di parigi mascherati aveva gli occhi ben chiusi quando tacqui si infilò tutte e due le mani in bocca e tirò la mascella inferiore il suo vestito era tutto insudiciato probabilmente lo avevano buttato fuori da un'osteria e non se n'era ancora reso conto era forse quella piccola pausa serena tra il giorno e la notte durante la quale la testa ciondola sul collo senza che se l'aspettiamo e dove tutto è immobile senza che ce ne accorgiamo perché non stiamo osservando e poi scompare rimasti soli col corpo piegato ci guardiamo in giro ma non vediamo più nulla non sentiamo più neanche la resistenza dell'aria e dentro di noi ci attacchiamo al ricordo che a una certa distanza vi sono delle case coi tetti e con comignoli fortunatamente ad angolo dai quali l'oscurità fluisce nelle case e attraverso i solai passa nelle stanze più disparate ed è una fortuna che domani sarà un giorno nel quale per quanto suoni incredibile si potrà vedere tutto l'ubriaco sollevò le sopracciglia facendo apparire tra esse e gli occhi una zona lucida e blatterò a intervalli è così cioè io cioè ho sonno perciò me ne andrò a dormire io cioè ho un cognato in piazza venceslao vado là perché è là che abito perché il mio letto è là io vado adesso solo non so cioè come si chiama e dove abita mi sembra ma l'ho dimenticato ma non fa niente perché non so neppure se ho un cognato adesso me ne vado cioè crede che lo troverò risposi senza esitare questo è fuori dubbio ma lei viene dall'estero e la sua servitù per il momento non è con lei mi consente di accompagnarla e gli non rispose ed io gli porsi il braccio affinché vi si attaccasse grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.